Noi coach Dario Lo Storto, squadra terza classificata a queste finali, la domanda può essere banale ma non si è particolare in queste finali. No, in queste finali no. Come squadra abbiamo cercato di dare sempre il massimo. Costa Masnaga da questo mismatch difensivo sta prendendo tutto. Girabello, Giorgia Balossi va dentro, uno con grande palla, sue in pochissimi secondi, Caterina Gili dentro fino in fondo e segna, batte Martina Spinelli nell'uno. E bene fa secondo me Prisco ad attaccarla ogni volta che riceve palla. Chiara di scacciati per Martina Spinelli, il contrasto difensivo di Mary Nasrawi la costringe a schiacciarsi Canestro, grande azione in contropiede di Costa Masnaga. Scanna, Eleonora che va fino sul fondo ancora, scarico, Giulia Natali un balzo felino ma poi non riesce a tenere la palla che usciva. Eleonora Villa come un cobra, è lì, marca la metà campo, va in aria, slalom in mezzo a tutte, fuori per Matilde Villa che va dentro, penetra in aria. Non c'è risolto dal numero, ve lo confesso perché sono ugualissime. E gloria, ok, buh, è riettoria Farina, Caterina Gili è già là, prende palla e segna per Camilla Levy. Non le concedono il tiro da fuori, Giorgia Balossi, pallonetto in controtempo. Dall'altra parte per una Camilla Levy che è caldissima dopo il canestro di prima. Uh, Martina Spinelli, graro un break importante, Martina Spinelli! Niente pesante, Caterina Gili, ferro, rimbalzo di Martina Spinelli, poi Caterina Gili riprende palla, raddoppiata, scarica fuori, Linda Setti, si prende il tiro. Caterina Gili in aria, poi esce, va da Lucia Venturi, Linda Setti, vuole un altro tiro da tre, non glielo lasciano, Caterina Gili da fuori. Che ci aspettevamo, che finora nessuna, nessuna proprio, ha tradito le aspettative. Camilla Levy dentro, rilascia un pallonetto vincente. Bellissimo, era dolcissimo. Giorgia Balossi penetra in mezzo alle difese avversarie, arresto, tiro! Un demonio in questo momento, si è cercando di spronare le sue, andando a prendere gli imbalzi, so spingendole avanti. Lui c'è un capitale, Camilla Levy, non hanno certo paura di alzare il braccio e tirare, Camilla Levy! Silvia Nativi, angola Alice Prisco, tripla anche di Alice Prisco, mamma mia, che momento fantastico!